Si è tenuta nel pomeriggio di ieri ad Atena Lucana l'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2013 della Banca di Credito Cooperativo di Sassano. Durante l'incontro sono stati analizzati i positivi riscontri economici della gestione, che è in costante aumento nel corso degli ultimi tre esercizi. Sia la raccolta, infatti, che gli impieghi hanno fatto registrare sensibili aumenti, in linea con quanto immaginato da parte della governance aziendale. Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato, in anteprima ai soci, il nuovo servizio che la banca fornirà ai propri clienti, il prestito suppegno. Rappresenta un'esperienza unica in Italia, proprio perché viene svolta in outsourcing con una società che è vigilata da Banca d'Italia e rappresenta un momento particolare di crescita. Altre BCC hanno chiesto di poter verificare questa nostra esperienza per poterla replicare nelle loro regioni. Grazie a tutti.